Panasonic spinge molto sulla tecnologia Vieracast, ovvero la possibilità di connettere il tv a internet per usufruire una serie di servizi. E come a Monaco Panasonic presenta dei servizi nuovi, uno di questi è Ace Trucks, ovvero il video on demand. Sarà attenzione anche in Italia e permetterà, una volta collegato il proprio televisore a internet, di scaricare in streaming i film pagando o un noleggio di 24 ore oppure acquistandoli direttamente per poter rivedere quanto e come si vuole. La library di film è abbastanza ampia, sono circa 2000 titoli e tutti hanno l'audio in italiano, ovviamente a bassa definizione. Altri servizi, vediamo qua Dailymotion, un servizio musicale che però non sarà solo per l'Italia, mentre invece lì interessante è Twitter. Twitter, il famoso sistema social network di microblogging, ai tv si può attaccare anche una tastiera, quindi agevolando così l'inserimento dei nostri micro post sul sito dell'uccellino che cinguetta. Qui vediamo invece l'altra parte di VRcast che è Skype, quella sopra la tv è una webcam con 4 microfoni e grazie a quella webcam lì è possibile fare videochiamate tra tv a tv oppure da tv a pc.